salvando le certole dallo scotch, missione Greenpeace è un casino che cazzo l'ha messa la zampa, guarda che l'ha fatto ah c'è l'ha iphone quattro s, non ti ricordi? tre? no, quattro quattro s? qua l'angelo tommaso sta salvando la lucertola dobbiamo salvargli tutte le dita non deve rimanere una qua è difficile però eh qua è difficile dai che ce l'hai fatta, è libera dai le hai salvato tutte le dita adesso si è messa a morsicare la plastica questa stronza, guarda dai butta si è incollata la bocca come cavolo fa? si è morsicato, ah ecco ecco si è liberato senti dai la zampa qua è un po' zuzza però almeno ce l'ha fatta lascia no lascia lì che ci ripresi un po' si è affogata da troppo no dai lasciamo che queste sono così sceme che eh c'è la zampa un po' andata però ce l'ha fatta dai e questa zampa che è un po' andata mettiamo nell'erba dai ecco qua ce n'erano gli altri ma sono andate via ok ok